Nel 2024 farò parte del team Moto X Racing, un team già molto conosciuto al mondiale, dove farò il campionato WEC, probabilmente anche qualche weight card del CIV, e vedremo, magari se andrò forte, faremo anche qualche gara del mondiale. Passerò a Yamaha, ho fatto due anni in Kawasaki, e ho già provato Yamaha al CIV in qualche weight card quest'anno, e mi sono trovata molto bene, quindi sono molto fiduciosa per il 2024. Quali sono gli obiettivi per la nuova stagione? Sicuramente vorrei vincere il WEC, è un campionato europeo femminile, e sarei molto contenta di vincerlo, comunque sarei nelle posizioni più alte del campionato, e poi punto, come dicevo prima, a fare il meglio possibile per potermi prendere il posto a fare qualche weight card nel mondiale. Denise ha alle spalle un'importante esperienza biennale nel campionato inglese, il BSB. Quali sono gli apprendimenti dei quali farà tesoro per il futuro? Sì, in Inghilterra ho imparato tantissimo, sia a livello personale che a livello di professionista, insomma, e sicuramente ho imparato a correre in piste molto strette, con tanti up and down, e a lavorare con persone di diverse culture, quindi con diversi modi di lavorare rispetto al modo italiano che abbiamo noi, e sono molto fiduciosa che questo mi aiuterà moltissimo per il mio 2024.